Confida in Dio Creatore, nello Spirito Santo che muove tutto verso il bene, nell'abbraccio di Cristo che attende ogni uomo. Con queste parole Papa Francesco ha salutato i pellegrini giunti in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il punto di partenza delle riflessioni del Pontefice è stato il tema Educare alla Speranza, l'occasione per ribadire che la lotta che ciascuno di noi conduce sulla Terra non è inutile, perché alla fine dell'esistenza non ci attende un naufragio. Nonostante le frustrazioni, tutto nasce per fiorire in un'eterna primavera. Di qui l'invito a non rimanere mai a terra dopo una caduta, a non dare ascolto alla voce di quanti spargono odio e divisioni, ad amare tutti perché ognuno ha sempre una storia da raccontare e a non avere mai paura di sognare. Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati, non sei superiori a nessuno, ricordati di questo. Non sei superiore a nessuno. Se tu fossi rimasto anche l'ultimo a credere nella verità, non rifugire per questo dalla compagnia degli uomini. Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo, porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura. Sei cristiano e nella preghiera tutto riconsegna a Dio e coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l'uomo. E se un giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto. La fedeltà è venuta. La fedeltà è venuta con la fedeltà. Vi sentire il coraggio della fedeltà.